Sul fronte del Mediterraneo centrale noi abbiamo un sinonimo a rotta del Mediterraneo centrale che si chiama Libia. Quando si parla di Mediterraneo centrale c'è un solo tema, la Libia. Tutti quelli che arrivano in Italia, dico tutti per dire quasi tutti, cioè ben oltre il 90%, partono dalla Libia. Quindi se noi stabilizzeremo la Libia avremo senz'altro un giovamento dal punto di vista dei flussi. È chiaro che la comunità internazionale si sta impegnando per raggiungere il risultato di un governo stabile in Libia. È altrettanto chiaro che ci sta impiegando tanto tempo e non aveva fatto i conti con il secondo passo dopo il primo passo che fu quello di mandare al padre eterno Gheddafi. Oggi noi siamo in trepidante attesa e operosa attesa, perché nel frattempo ci stiamo lavorando su, che la questione libica si risolva.